La situazione è chiaramente in evoluzione e segue l'andamento delle diverse ordinanze e dei diversi DPCM caratterizzandoci comunque come servizio essenziale. Facendo una brevissima panoramica si è iniziato con la sola eliminazione delle corse bis nel periodo in cui si è disposta la chiusura delle scuole. Siamo andati via via con le diverse riduzioni che ci sono state. Oggi siamo su percentuali di servizio che variano dal 26-27% al 40% in alcune aree con naturale chiusura del servizio per quelle che sono le zone rosse. Si è cercato di lasciare salve le corse legate al pendolarismo. Quindi le corse in prima fascia di mattina, prima coppia di corse, con un ritorno in alcuni casi sia nell'orare compreso tra le 13 e le 14. In alcuni casi anche con un orare compreso tra le 17 e le 18. Avete preso anche dei provvedimenti per garantire anche all'interno dei mezzi il cosiddetto distaccamento sociale, mantenere le distanze di sicurezza tra ogni singolo individuo? Abbiamo previsto il distanziamento, abbiamo avviato una campagna via web e adesso metteremo delle distanze. Le sedute sono previste, ma sono già uscite degli avvisi per l'utenza. un posto sì e un altro no. Abbiamo dato delle circolari al personale viaggiante indicando il numero massimo di persone che può salire per ogni categoria di autobus. Quindi gli utenti sono garantiti, gli autobus sono sottoposti a sanificazione certificata. Ogni autobus quando rientro c'è il nostro responsabile che va a vedere il trattamento che viene effettuato sull'autobus. Il problema non è quello, o meglio sì, il problema della sicurezza è fondamentale, ma con i numeri che ci stanno su ogni autobus il problema principale è che non viaggia nessuno. Quindi con 3-4 persone che viaggiamo, da questo punto di vista, gli utenti sono più che garantiti. È calato comunque il numero di persone che accedono al servizio? Allora, purtroppo non è che è calato, è calato in modo drammatico. Si è passati da una riduzione iniziale del 50%. Viene a crescere, oggi stiamo su una riduzione dei ricavi di traffico che si attesta oltre il 90%. La regione si farà carico della tenuta economica in questa fase di grandissima flessione delle corse e anche dei clienti che usufruiscono dei vostri servizi? Beh, diciamo che il problema non è solamente di tua, è un problema di tutte le aziende operanti nel trasporto pubblico locale. Ci sono state delle proposte avanzate sia da tua come azienda pubblica e sia d'accordo con Astra, che è la nostra associazione datoriale, con ANAV, che è l'associazione datoriale dell'azienda privata e con Confindustria. Le proposte sono, diciamo, abbastanza semplici, non onerose per la regione. Diciamo, l'accoglimento delle nostre proposte è la condizione per vivere, ma a livello di sistema. Considerate che ogni azienda per sicuramente il mese di marzo, quasi sicuramente il mese di aprile, non si sta per conto altri mesi, avrà delle riduzioni sul ricavi di traffico per cui alcune potrebbero veder compromessa la stessa esistenza se non si intervenisse.